Oggi siamo qua davanti all'Aveco, abbiamo cambiato la forma di lotta che fino a qualche giorno fa eravamo in assemblea permanente all'interno dello stabilimento, adesso siamo qua fuori con i gazebo con tutti i lavoratori che hanno deciso di uscire in solidarietà con i sette lavoratori per i quali l'azienda ha proposto di ritornare con l'agenzia di lavoro interinare ad Eco e che però non possono più lavorare qua dentro perché pensano, dicono che c'è stato un calo di lavoro e quindi questi sette lavoratori non hanno più diritto a lavorare qua. Ora c'è stato anche un incontro in prefettura dove assieme ai delegati abbiamo cercato di far capire che c'erano altre strade che si potrebbero intraprendere, ad esempio sono nove lavoratori di un'altra agenzia interinare i quali scade il contratto a fine anno che potevano eventualmente a questi lavoratori qua prima di tutto non rinnovare il contratto visto che voi avete tutti quanti un contratto a tempo indeterminato, che c'è un accordo che garantisce la stessa parità di condizioni con i lavoratori anche dipendenti qua di Vecco e però non hanno voluto seguire questa strada ma hanno voluto a tutti i costi lasciare a casa questi sette lavoratori. Oggi è stata fatta una proposta che consiste nel dire invece di lasciare a casa sette lavoratori a parità di costi per l'azienda proponiamo di lavorare tutti e lavorare, ridurre il numero delle ore pari ai sette lavoratori che sarebbero in meno. Su questa cosa l'azienda ha risposto no. Voglio sentire come avete preso questa risposta che è stata data dall'azienda e quali sono anche le vostre intenzioni da qua in avanti. Allora noi siamo in 32, è una risposta che per noi la riteniamo che alla fine è una politica che vogliono mandar via tutti quanti i 32, se non hanno scettato questa risposta qui vuol dire che vogliono mandar via i 32, che alla fine hanno stesso costo, tenere sempre i sette assieme i 32 però hanno stesso costo. Quindi loro ci hanno fatto capire che vogliono proprio mandar via tutti i 32. E' questo il loro ragionamento. Vuoi dire da te qualcosa? Quello che ha detto tutto il signor Mohamed. Sì, no, la cosa secondo me anche più grave di tutto questo è che da parte vostra è stato dato un segnale anche importante di solidarietà tra lavoratori perché anche tutti quelli che avrebbero avuto la possibilità di continuare a lavorare a tempo pieno, che rinuncerebbero invece al tempo pieno per ridursi il lavoro e questa cosa non solo non è stata apprezzata ma è stata respinta in maniera molto rude. E l'altra questione che loro dicono, che è completamente fasulla, è che per ragioni economiche non possono accettare questa nostra proposta. Quindi anche questa secondo te che risposta è? Non ha nessun senso perché la nostra proposta che abbiamo fatto è che alla fine hanno stessi costi e gli stiamo dando tempo anche da qui a fine anno così metteranno a posto. Poi magari dopo 3-4 mesi hanno ancora delle problematiche e tutto quanto che non riescono più a mantenere neanche qui 25 allora lì se ne parla, se ne siede e se ne parla ancora. Ma loro non hanno proprio l'idea di sedersi sul tavolo e discuterne su questo problema. Noi siamo dei lavoratori storici che abbiamo lavorato per anni e anni e anni, da 15 anni che siamo qui da quanto è iniziata l'Aveco che era piccola. Adesso finché è diventata grande hanno messo a posto tante cose allora vogliamo mandarle le persone che sono scritte ai sindacati più o meno e tenere le persone che abbassano la testa, che non chiedono niente, che li sfruttano come vogliono magari loro hanno anche un'idea che più avanti tornano con la cooperativa a sfruttare la gente come si voleva e basta. Prima dicevate appunto che erano state fatte anche delle proposte, se lasciate i Cobas Sì, ci hanno fatto questa proposta qui 3-4 mesi fa con il delegato qua, il dirittore delegato ci hanno fatto questa proposta qui, basta che mandate via a DL Cobas e portate dentro qualsiasi sindacato però per noi CGL, UIL e tutti quanti, però noi ragionando a DL Cobas finora ci ha dato una mano a avere tutti i nostri diritti e questo che non vogliono loro, vogliono sfruttare la gente finché vogliono, cioè fino alla fine Loro piano piano vorrebbero mandare via questo gruppo che si è creato durante questo percorso che abbiamo fatto dalla cooperativa alla DECO, insomma, cercano piano piano di mandarli via tutti quanti, tutti gli iscritti a Cobas Questo è chiaro, allora adesso siamo ancora qua, ovviamente in assemblea permanente fuori dai cancelli Qual è la volontà che tutti quanti voi assieme state esprimendo oggi con questa lotta? Allora la nostra volontà è di lottare fino alla fine, che vogliamo ancora tornare dentro all'azienda di continuare a lavorare perché abbiamo lavorato per molti e molti anni non è giusto che arriva oggi e ci mandano via così, non è proprio giusto cioè hanno portato gente, hanno assunto gente dopo l'accordo che abbiamo fatto nel 2016 hanno portato gente qua dentro e l'hanno assunto direttamente con VECO e già su quello noi non lo riteniamo giusto E noi avevamo anche la precedenza, gente che ha 18 anni, non sono pochi non assumerli e assumere uno che ha fatto un anno non ci sembra neanche rispettoso nei confronti di lavoratori non ci sembra, non ci sembra, non ci sembra, non ci sembra